Quando si parla di telecamere private utilizzate a tutela della propria abitazione, bisogna distinguere a seconda che l'impiego coinvolga parti comuni del condominio o la strada pubblica. La legge infatti prevede una serie di limiti a tutela della riservatezza altrui. Cerchiamo allora di comprendere cosa dice la legge sulle telecamere private, dove si possono installare gli impianti di videosorveglianza e quando questi violano la privacy dei vicini. In questo video vi spiegherò a una a una tutte le regole che dovete rispettare se volete usare telecamere. E attenzione, ciò che vi sto per dire non vale se invece vi dotate di una telecamera a giocattolo, anche se non è facilmente distinguibile da una vera. Difatti, se quella vera, anche se spenta o inutilizzata, deve sempre rispettare i limiti di legge che vedremo a breve, quella invece, che serve solo come disincentivo per i ladri, ma all'interno c'è sola plastica, non è soggetta a alcuna regolamentazione. Ma ora è tempo di iscrivervi al canale per non perdere le successive puntate e di sentire la nostra sigla. Questa è la legge! Per installare una telecamera privata a tutela del proprio appartamento condominiale è possibile utilizzare il muro del pianerottolo a cui appoggiare l'impianto senza bisogno dell'autorizzazione dell'assemblea. È possibile dotarsi della videosorveglianza anche senza informare il condominio o l'amministratore, i quali non devono dare il loro previo nulla a osta. Non è necessario apporre un cartello con l'avviso ai passanti, così come invece obbligatorio fare se l'impianto è di proprietà del condominio. L'angolo di ripresa delle telecamere non può riguardare le parti comuni dell'edificio, come le scale, l'ascensore o la porta del vicino. Eccezionalmente, però, si può derogare a questi limiti solo se il pianerottolo è così piccolo e stretto da impedire la tutela della propria abitazione senza invadere le aree comuni. È possibile puntare la telecamera dal balcone in direzione dell'auto parcheggiata nel cortile a patto che non si riprendano le parti comuni e ciò non si risolva in un controllo a distanza dell'attività degli altri condomini. L'utilizzo delle telecamere private dentro casa non è soggetto ad alcuna normativa, ma queste non possono restare accese se nell'abitazione c'è un'altra persona, anche se convivente, salvo questa abbia prima prestato il proprio consenso. Nessuno, infatti, può controllare a distanza un altro membro della famiglia che si trova all'interno della medesima abitazione, salvo ottenere l'autorizzazione da lui. Così commette il reato di illecite interferenze nella vita privata il marito o il convivente che aziona la videosorveglianza domestica per controllare cosa fa il partner, se lo tradisce, se manipola i figli e così via. L'utilizzo delle telecamere non è mai consentito per verificare lo svolgimento dell'attività lavorativa di terze persone, come la colfo o l'abbadante, se non si è prima ottenuta l'autorizzazione dell'ispettorato del lavoro. Sarebbe tuttavia lecito questo controllo se una volta acquisiti già fondati i sospetti circa il comportamento illecito di questo lavoratore, ad esempio le percosse a un anziano, le telecamere fossero usate per procurarsi la prova da far valere in giudizio. L'uso nascosto di telecamere in casa è consentito solo se colui che registra è fisicamente presente nell'abitazione, anche se gli altri non sono consapevoli di essere registrati. Egli deve essere, cioè, parte della discussione o delle azioni che vengono immortalate. Così è stata ritenuta lecita la registrazione di un rapporto intimo fatto da un convivente con la propria compagna nella comune camera da letto senza che questa avesse prima dato il proprio consenso. In generale, le riprese effettuate per fini esclusivamente personali o domestici non rientrano nell'ambito di applicazione del Regolamento europeo per la tutela dei dati personali, il cosiddetto GDPR. Queste, quindi, non devono rispettare alcun vincolo normativo. Tuttavia, se le riprese si estendono oltre le aree strettamente private, includendo spazi comuni o pubblici, come la strada, il trattamento diventa soggetto alle regole sulla privacy. Le telecamere che puntano sulla strada pubblica, pensate quindi a quelle installate dal proprietario di una villetta o di un'abitazione al primo piano, si ritengono legittime e, pertanto, l'angolo della ripresa può estendersi oltre la sfera privata solo se c'è un effettivo rischio documentato di atti vandalici, rapine, minacce reali. Di tanto, però, devono essere fornite le prove, come querele e denunce precedenti. La conservazione dei filmati non deve stendersi per oltre sette giorni. L'angolo di ripresa deve essere limitato al solo spazio necessario alla tutela privata. Ci deve, quindi, essere una proporzione tra l'invasione degli spazi pubblici e le esigenze di sicurezza. Deve essere installato il cartello di avviso ai passanti con cui si comunica la presenza della telecamera. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.